Le anticipazioni del segreto ci rivelano che dopo il trasefremanto Laral, Amalia starà malissimo per la presenza di Ines, ma non potrà fare nulla a riguardo. Inoltre la donna avrà contro Francisca in quanto la Montenegro scoprirà che, proprio a causa di Amalia, il nipote ha scoperto la verità sulla sua nascita. La perfida Francisca, quindi, ordinerà alla moglie del nipote di fare il possibile affinché quest'ultimo si riavvicini a lei. La donna dirà poi ad Amalia che se si rifiuterà di farlo, lei consegnerà a Bosco tutta la documentazione attestante la sua sterilità. La povera Jordan si sentirà quindi in trappola e si taglierà le vene. Bosco riuscirà però a salvarla grazie o l'aiuto della sorella e di Lucas. Francisca, nonostante tutto, non si perderà d'animo ed inviterà il nipote a recarsi alla casona per la nascita del nuovo puledrino. Il ragazzo quindi si reccherà dalla nonna e questa le consegnerà la cartella clinica di Amalia. Bosco resterà senza parole e cercherà spiegazioni dalla moglie. Quest'ultima gli comunicherà non solo che Francisca è una bugiarda ma che fu proprio lei a cercare di ucciderla. Il castro crederà alle parole della Amalia e si reccherà dalla nonna chiamandola assassina. Quest'ultima resterà malissimo da tali parole e schiaffeggerà il nipote. Infine Amalia si renderà conto che il marito comincia a dubitare di lei per cui penserà ad un modo per potersi trasferire insieme a lui e al piccolo Beltran a Madrid. Se vuoi conoscere sempre le ultime novità iscriviti e lascia un mi piace. Al prossimo video!